Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una puntata, abbiamo ospite Stone, in realtà è un nome d'arte. A questo punto, prima cosa, la domanda più semplice, se dovessi descrivere, ma soprattutto, come nasce Stone? Allora, Stone è un progetto, un tentativo, diciamo, di progetto solista, perché dal mio punto di vista è da molto tempo che milito in diversi gruppi, in diversi progetti, insomma, che spaziano in diversi generi. Quindi, partendo dall'hard rock, un po' al canto autorato, poi andare nel folk, e anche toccare generi nuovi come, per un rocchettaro come me, quindi l'EDM, oppure l'hip hop, che quindi mi ha permesso anche di lavorare in determinate produzioni di basi, per rapper, locali, eccetera, eccetera. Diciamo che questo è stato il primo tentativo per me di creare, di prendere un po' tutte quelle che sono le esperienze che ho avuto in questi anni e un po' condensarle, creare un po' uno stile personale. E questo, questo singolo che è uscito, diciamo, che è il primo esempio, il primo esempio di quello che potrebbe essere, quello che verrà, insomma, è il punto di partenza di quello che è il nuovo progetto, il primo progetto mio è il nuovo progetto di Seabase, che è il mio collaboratore, che è questo EP, chiamato Underdogs, che uscirà a breve, diciamo, credo, nella prima metà di dicembre, ecco. E comprenderà anche questo, il singolo che è uscito, ma perché Pac-Man? Perché? Che cosa ci ha fatto Pac-Man? Cosa ci ha fatto Pac-Man? Diciamo che, proprio perché il, diciamo che il progetto è nato un po' per gioco, perché diciamo che tutti quanti i brani, essendo stati un primo tentativo di progetto solista, poi ho visto che non funzionava molto bene e conoscendo appunto il mio collaboratore Seabase, abbiamo deciso un po' di aggiungere anche il suo stile ed è venuto fuori questo stile molto mezzo retro, mezzo IDM moderno, mezzo organico, mezzo sintetizzatore, insomma è venuto fuori qualcosa che poi si è sviluppato per diventare quello che è adesso. Uno di questi pezzi, ridendo e scherzando insieme, abbiamo detto ah ma questo qui sembra che effettivamente venga da un videogioco retro. Seabase ha voluto aggiungere elementi proprio del gioco di Pac-Man e ho detto beh allora a questo punto ci sta un pezzo su Pac-Man. Mi sono messo a cercare, a un certo punto nel cercare è venuto fuori, sono venuti fuori delle teorie di complottismo sui terrapiattisti e ci sono guardati e ho detto ci potrebbe stare. E da lì è nata diciamo l'idea dell'effetto Pac-Man che effettivamente è una delle tante teorie folli dei terrapiattisti, dell'associazione dei terrapiattisti, di cui parla di questo, che cerca di giustificare insomma il passaggio da una parte all'altra del grobo se la terra fosse piatta, che è esattamente quello del videogioco. Quando Pac-Man passa da una parte all'altra dello schermo, praticamente si teletrasporta dall'altra parte e quindi è venuto fuori, anche per gioco, per scherzo, questa cosa del Pac-Man effect e poi è stata sviluppata insomma nel testo del brano. Ma in questo disco che poi sarà per uscire, ma manca pochissimo all'uscita, prende diversi generi, non solo questo genere, ma avete un pochettino, cioè non vi siete limitati a un genere, ma avete spaziato un pochettino su tutti. Sì, sì, beh abbiamo cercato di essere un po' più poliedrico, il più poliedrico possibile, nel senso io appunto come ho detto all'inizio vengo un po' dalla musica rock, quindi mi sono concentrato su elementi ritmici della batteria, oppure sulla chitarra elettrica. Invece C-Bass viene da tutto altro genere, viene dalla musica ambientale, dalla musica elettronica, dalle colonne sonore, quindi abbiamo un po' preso le due esperienze e abbiamo cercato di combinarle nel modo più, cioè nel modo migliore possibile, ma anche nel modo più diverso possibile, a seconda di quelli che sono noi, di quelli che sono i brani, insomma. Abbiamo cercato di trovare più combinazioni possibili e abbiamo creato più di un pezzo con questi elementi. Quando è stato facile riuscire a combinare l'ambiente, l'elettronica, che poi è musica da film, comunque vale a tutto questo, con il mondo rock, che mi hai detto tu? Quando è stato facile o comunque quando è stato difficile con bands? Beh, io e C-Bass siamo due persone completamente diverse, che molto spesso si mettono a sbattersi la testa a vicenda. Quindi sì, diciamo che l'impegno è stato quello, nel senso, magari io avevo un'idea, lui aveva un'altra, ma no, è così, ma no, e cos'è? Quindi a un certo punto ci si scontra. Però a un certo punto si capisce che non si riesce ad andare avanti, quindi ci si trova con calma, si guarda in modo analitico quello che è stato fatto e poi si dice, ma non so, ma secondo te potrebbe andare bene? E quindi si crea un po' la collaborazione. Io comunque C-Bass lo conoscevo anche per un altro ambiente, appunto, avendo parlato della sua musica, che comunque, avendo fatto quello nel sonore del teatro, ci siamo incontrati in ambiente teatrale. E quindi da lì, partendo da quel punto di riferimento, abbiamo visto quali sono i punti d'incontro tra quello che è la musica che amo io e quello che è la musica che ama lui. E da lì abbiamo cominciato un po' a costruire, ma sì, difficoltà ci sono state e sono state queste, però ci sono state anche tante soddisfazioni, che hanno visto, o che ci hanno visto un po' avvicinare quelli che sono i miei interessi e i suoi e che hanno reso il tutto molto più facile. Nella creazione dei brani nascono, o mai questa è una frase che è una domanda che viene spesso, le vedute nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure nascono insieme, oppure c'è un momento in cui improvvisamente una nota, una frase e poi da lì nasce tutto l'insieme. Per il nostro caso credo che sia partita prima la musica, prima la strumentale, diciamo, da lì è partito un po' tutto. Le bozze iniziali, quelle che avevo creato io, sono state appunto principalmente di riff o comunque giri di batteria, che poi sono stati passati a Seabase, che come produttore ha preso queste bozze e le ha sviluppate. Poi una volta visto il prodotto finale, quello che viene il risultato, abbiamo ragionato su quelli che potevano essere gli argomenti da allacciare a quel tipo di strumentale lì, quindi principalmente il tutto è partito dalla musica. Suonare dal vivo, tu hai suonato sicuramente dal vivo, quale emozioni ti dà salire sul palco dove c'è una platea davanti, che inizialmente poi è in parte sconosciuta, comunque che è silenziosa, ma poi è un silenzio che parla, poi comunque interagisce e ti rimanda quell'energia sul palco, anche se poi capita a volte di non piacerlo, perché tra le luci, però tu senti quella brusia, quella moce, quei rumori. Che cosa sensazione provi in quel caso? Beh, all'inizio di ogni live, diciamo, è come buttarsi in una piscina gelata, nel senso ti spaventa come la reazione del pubblico e ti viene da dire oh mio Dio, ma forse non mi conviene, cioè come faccio ad affrontarli? Poi a un certo punto quando scade il tempo e devi entrare, si aprono le luci, diciamo fai esattamente come in una piscina gelata, fai un respiro e ti tuffi. E in quel momento c'è comunicazione, cioè parti con il primo brano, vedi la reazione del pubblico e da lì capisci come poter interagire, se il pubblico reagisce bene, se bisogna cambiare approccio. Quindi è sempre una bella sensazione, anche perché ti dà quella scarica iniziale di adrenalina che dici ok dai facciamolo, vediamo cosa succede. E ogni volta è un'esperienza diversa, proprio perché il pubblico cambia, il pubblico è diverso e magari si aspetta qualcosa e vedere la loro reazione, che sia positiva o che sia negativa, è sempre una grande ispirazione per un artista. E mentre poi quando scendi a parco, loro chiaramente li incontri, ti fanno domande oppure ti chiedono selfie, ti chiedono, ti hanno chiesto autografi, oppure non ti bongo. No, beh, molto spesso è un cicchetto insieme, molto spesso è una chiacchiera al bar, diciamo. Un cicchetto non ci sta mai male. Sì, esatto, esatto. Un punto, la musica è un divertimento. Sì, esatto, è un punto d'incontro. A questo punto, tornando sull'ultimo lavoro che sta... Allora, il singolo sta uscendo, è uscito. È già uscito, è già uscito. Il disco starà per uscire tra pochi giorni, poche ore. Sì, esatto. E se ti dicessi cosa ho dimenticato nel racconto di questo nuovo lavoro, cosa mi risponderesti? Che cosa? Puoi ripetere la domanda, per favore? Se ho dimenticato qualcosa di questo nuovo lavoro, che cosa avrei dimenticato? Dimenticato? Ma intendo di domanda? Sì. Ah, ok, ok. Vediamo. No, beh, credo che ne abbiamo parlato un po' di tutto quanto. Non credo ci sia tanto altro. È un progetto nuovo, è un progetto, a mio parere, interessante. Quando io e Sebastiano Seabase abbiamo prodotto questo progetto, ci siamo messi ad ascoltarlo costantemente. Ah, ecco una cosa che magari potrebbe essere stata dimenticata, che questo progetto non è... Cioè, è un progetto che risale a prima della pandemia. È qualcosa che è stato un po' fermentato, diciamo. Quindi all'inizio è stato appunto per gioco messo in piedi. Io e Seabase l'abbiamo ascoltato e ascoltato e ascoltato tantissimo. Poi a un certo punto, per un'idea o per un progetto da una parte, una nuova idea dall'altra, è stato un po' messo da parte e dopo la pandemia ci siamo trovati e abbiamo detto sì. È arrivato il momento di pubblicarlo, di farlo sentire alla gente. Abbiamo voluto pubblicarlo sistemando quelle piccole cose che nonostante il nostro ascolto costante è venuto fuori. Quindi è sicuramente un lavoro molto più maturo rispetto a come l'avevamo concepito, ma abbiamo cercato di tenerlo il più sincero possibile. Nel senso è comunque un nostro modo di interpretare la musica, un nostro punto di incontro come generi, ma anche come ascoltatori, immagino. Quindi speriamo che venga recepito positivamente quando uscirà, insomma, il progetto. E questa copertina dove c'è questo Pac-Man, imbagliato, comunque un aspetto trucido, un pochettino metallo, boroc, con queste mani. È una copertina diversa. Pac-Man c'è, però in versione un po' più rocchettara rispetto a poi allo stile che è il brano. Sì, esatto, è un po' synth wave, diciamo. Quindi è molto un'interferenza su uno schermo, quasi. Fa un po' intuire quello che è l'atmosfera del brano, che è molto misteriosa, molto criptica, ma allo stesso tempo fa capire da dove viene fuori tutto quanto il contesto. Quindi un qualcosa di misterioso, complottista, parliamo di Pac-Man effect, ma che comunque fa capire qual è l'identità, qual è l'idea che vuole portare insomma il brano. Qual è stata la prima reazione che hai visto negli occhi delle persone che hanno ascoltato il brano in anteprima, perché effettivamente una volta realizzato, lo date in anteprima a far ascoltare il mole che poi venga. Qual è secondo te, vedendo più che ascoltando le parole, vedendo le facce delle persone, secondo te cosa hai capito, cosa sei riuscito a capire con quelle facce? Beh, dalle facce c'è stato un primo stupore, perché l'intro magari non è così intuitivo, nel senso sì, si parla di beep, di boop, di 8-bit, insomma musica 8-bit, ma poi quando entra effettivamente la gran cassa, quando entra la voce, c'è sempre un pelo di stupore, perché fa un po' cambiare l'atmosfera del brano. E dalle facce, dalle reazioni di quei primi secondi di brano, capisco che il messaggio che io e Sebastiano volevamo dare è arrivato. Un po' di stupore, un po' di qualcosa di, all'inizio che potrebbe essere prevedibile, dato il brano e dato, insomma, l'inizio ecco, però allo stesso tempo di stupore di qualcosa di nuovo. E quindi sì, diciamo che dalle facce e dalla reazione iniziale, io e Sebastiano possiamo dire che per quello che volevamo dare, il progetto è riuscito, o il brano è riuscito, ecco. E quanto uscirà il progetto, definitivamente, che abbiamo detto imminente? Sarà soltanto in formato digital oppure in altre forme? Ci piacerebbe farlo in altre forme. Per ora, dato anche, diciamo, il periodo storico in cui è molto più semplice ed è molto più rapido consegnare e distribuire il brano o il progetto, insomma, in formato digitale, e ci atterremo a quello. Speriamo, magari, in futuro, se il progetto verrà ricepito in modo molto positivo, di poterlo fare anche in altri formati, magari CD oppure... Vinile forse è un po' eccessivo, sarebbe molto bello farlo in vinile. Però per ora ci concentriamo sulle piattaforme di distribuzione digitale. E molti dicono che noi siamo retro, perché ogni tanto citiamo il vinile, l'audio cassetta, citiamo il CD. Oh, sì, sì. E quindi siamo forse in un mondo retro, perché ormai siamo retro. Però quando è cambiato, effettivamente, secondo te, il mondo della musica, utilizzando tutte queste piattaforme, da Spotify, a tanti altri, perché non c'è solo Spotify, ma tanti altri distributori, ma quando è effettivamente vantaggioso per un giovane artista o quando effettivamente è poco vantaggioso perché ci sono troppi movimenti, troppo a livello economico, forse rientra poco. Diciamo che sicuramente c'è l'aspetto economico di mezzo, perché fare un CD o fare un vinile sono due cose completamente diverse, sono due processi di produzione completamente diversi, ma che ti danno anche una sensazione diversa. Il vinile, per quanto mi riguarda come artista, è musica fisica. Cioè, proprio ti dà quella sensazione. Un CD è qualcosa di leggermente più digitale. Io ritengo che per un giovane artista, o comunque per un artista in generale, di adesso, parlo ovviamente, le diverse forme di distribuzione, quelli che vanno più in voga, sono un po' lo specchio della società attuale. Siamo in un mondo in cui principalmente tutto viene distribuito il più velocemente possibile e nel modo più facile possibile. Quindi le piattaforme come Spotify, come Apple Music, come YouTube, proprio perché c'è un'esigenza di rapidità, ho bisogno, voglio sentire quel pezzo, boom, me lo trovo in YouTube. Ho bisogno di, voglio ascoltare questo pezzo, come si chiama, boom, lo trovo su Spotify. Proprio perché è così rapido, è molto più facile, è molto più intuitivo, magari affidarsi a queste piattaforme di distribuzione. Per qualcuno che ama la musica, quindi qualcuno che magari vuole qualcosa di più, vuole la copia fisica, vuole avere la sensazione di toccare, come si faceva una volta, quel brano o quell'album, e dire sì, io ce l'ho e posso ascoltarmelo quando voglio con la piattaforma che voglio, cioè fisica ovviamente, allora in quel caso va a cercarsi la copia fisica e di conseguenza anche l'artista va a rispondere a quella richiesta. Ovviamente per un artista giovane questa richiesta non è immediata, non è un qualcosa come un andarmelo a cercare su internet, è un qualcosa che il pubblico va a chiedere all'artista. E per uno che magari, non lo so, adesso parlo anche della musica attuale, quindi i rapper, i trapper, i pop, quella risposta viene principalmente da digitale, viene dai social, viene da... ma addirittura anche la masterizzazione è qualcosa quasi fatto in casa, quindi è tutto un DIY, diciamo, un do-it-yourself. e per una distribuzione fisica è sempre molto difficile. Però quando un artista ha quel tipo di risposta dal pubblico, credo che non esiti, nel senso vada a capire qual è il modo migliore per poter soddisfare e consegnare il... poter consegnare quello che il pubblico vuole. Perché noi non andavamo con me, perché a volte capita che... una volta c'era il famoso evergreen, oggi un brano che dura due settimane, tre settimane, a questo punto lo definiamo evergreen, perché poi a un certo punto scompare, molti artisti scompare. c'è il rischio che non c'è più la realizzazione, le società, le discografiche, non facciano più il catalogo, cioè gli artisti non hanno più il catalogo del... come un masco rossi, un zucchero che ha un catalogo, quindi suona dal vivo un catalogo enorme e che può guadagnare. Ma i giovani rischiano in questa situazione forse che non avendo più un catalogo si riesca a perdere un pochettino che la gente poi si perda nell'ascolto? Beh, assolutamente, anche secondo me, nel senso... proprio perché c'era una volta questo concetto di musica fisica, si dava più importanza all'album, si dava più importanza al progetto. Invece adesso la società, o comunque le etichette musicali, sono più focalizzate sul singolo, sull'unico brano che deve essere consegnato al pubblico nel modo più rapido possibile. E molto spesso non c'è, secondo me, quell'amore o quella cura che ci poteva essere una volta in passato, quando c'era addirittura un album che era un concetto, veniva sviluppata una storia. Mi ricordo appunto nel prog rock, anche qua in Italia, si costruivano delle storie e queste storie venivano descritte, venivano sviluppate all'interno di un album, con brani che addirittura arrivavano a 20 minuti. E invece adesso, appunto perché c'è questo concetto della rapidità di distribuzione, ci si focalizza su un unico brano. E molto spesso, proprio perché ci si concentra su un brano, c'è il rischio che i brani possano addirittura coincidere, possano essere uno uguale all'altro e quindi perdono la loro importanza. E secondo me questo è un fattore critico per chi effettivamente ama la musica, per chi vuole distribuire, o comunque avere una risposta dal pubblico. Allora, ricordando i vostri indirizzi dove trovare il brano, dove raggiungervi. Allora, per quanto riguarda me, potete raggiungermi su Instagram, quindi stone.music, per quanto riguarda Seabase, è sea.base-music, sempre su Instagram. Il brano invece lo si può ascoltare su tutte le piattaforme, quindi basta digitare The Pac-Man Effect, col trattino in mezzo a Pac-Man, e lo si può trovare su Spotify, lo si può trovare su Deezer, su Apple Music, su YouTube Music, insomma su qualsiasi tipo di piattaforma di distribuzione digitale. E sì, basta. E allora questo mondo vangano i saluti finali. Ok. Diciamo i ringraziamenti, quindi? Sì. Ok, dai. Beh, prima di tutto, ovviamente voglio ringraziare il mio collaboratore, che purtroppo non è qua, immagino che anche lui abbia della gente da ringraziare, ma purtroppo non lo si può fare, perché ci sono solo io. Voglio ringraziare appunto la mia famiglia, gli amici, che comunque sono stati un po' il manichino da crash test prima di poter pubblicare il progetto. E ovviamente tutta quanta la gente che per ora ha ascoltato il brano e che mi ha effettivamente dato un feedback. Mi ha detto cosa gli è piaciuto, cosa non gli è piaciuto e che quindi mi... Cioè, può permettere a futuri progetti di avere comunque un feedback dietro che potrà migliorare, si spera, i progetti futuri, ecco. O gli album futuri. Portare dal vivo il disco sarà un'idea oppure è soltanto in studio per ora? Ci stiamo pensando, ci stiamo pensando, anche perché c'è Seabase che ha un altro progetto e questo progetto si focalizza anche sul portare i brani live. Quindi questa potrebbe essere anche un'occasione per poter pubblicizzare o comunque portare sul paico il progetto a Underdogs. Grazie mille allora per l'occasione e per l'invito. Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Grazie mille e per l'invito 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 e per l'invito